La neolingua capitalistica procede in modo solo apparentemente paradossale. Per un verso, infatti, essa inaridisce e sterilizza il linguaggio, in quanto impone una galassia semantica composta da un numero chiuso, sempre più chiuso di termini, il cui scopo è sempre solo il medesimo. Glorificare i rapporti di forza, così come sono. I reali e concretissimi rapporti di forza ogni giorno più asimmetrici, ogni giorno più iniqui, nel quadro del capitalismo liquido finanziario globalizzato. Insieme, la neolingua liberista mira a ostracizzare aprioricamente ogni possibilità di pensare e di dire altrimenti, di modo che l'umanità tutta sia riconfigurata nella forma inedita di un greggiamorfo di persone, ridotte a pecore, che pensano e desiderano il medesimo. Per un altro verso, tuttavia, la neolingua capitalistica, in modo apparentemente antitetico, viene arricchendosi ogni giorno di più di nuovi termini, di nuovi sintagmi, di nuove locuzioni, che rinsaldano sempre più l'ordine simbolico egemonico di santificazione del nuovo ordine reale del capitalismo americano-centrico, quale si è venuto dispiegando a livello planetario dopo il 1989, l'annus horribilis della riconfigurazione in modo muni o unipolare del mondo, un tempo diviso dal principio del cui us regio e us economia. Ecco così che nel proliferare delle nuove locuzioni imposte dalla neolingua liberista, vi è oggi un termine di nuovo conio su cui vale la pena soffermare e richiamare l'attenzione, sia pure solo cursoriamente e in maniera impressionistica. Gentismo è la nuova figura concettuale forgiata ad hoc dai padroni delle grammatiche dominanti. Gentismo è la nuova orribile figura semantico-concettuale forgiata dai signori del mondialismo, che signoreggiano non soltanto le distese planetarie del mercato globalizzato, ma anche la sintassi, le grammatiche, di modo che esse sempre da capo riconfermino l'ordine realmente esistente sempre più iniquo. Ecco allora che organica la destra liberista e finanziaria del danaro, la sinistra liberal-libertaria del costume, ha oggi coniato una nuova categoria per demonizzare ogni anelito delle classi nazionali popolari dei lavoratori, sempre più precarizzati, sempre più pauperizzati. Gentismo è per l'appunto la nuova etichetta con cui il pensiero unico politicamente corretto ostenta oggi il suo disprezzo generalizzato per la gente comune, i dest per i lavoratori, per le masse nazionali popolari, le quali vengono giudicate come irredimibilmente colpevoli di volere ancora un posto di lavoro garantito, dignità sociale, protezionismo economico e più Stato. Colpevoli codeste masse nazionali popolari di non volere ciò che invece i signori del mondialismo vorrebbero che essi volessero, ossia matrimoni gay, culto dell'immigrazione di massa, veganesimo modaiolo, genderismo militante e nemico della famiglia, fino ad arrivare naturalmente alle richieste di più mercato deregolamentato, di più femminismo, di più destrutturazione del vecchio borghese Stato che ancora garantiva un welfare state e quindi la sopravvivenza ai ceti più deboli. Gentismo, in fondo, se decostruiamo i sintagmi della neolingua, dice il disprezzo sommo che l'aristocrazia finanziaria dominante, ossia la nuova classe egemonica nel quadro post-1989, ha per la gente comune. Gentismo non è altro che il disprezzo sovrano che i dominanti rivelano, palesano e ostentano ai danni dei dominati, la massa post-borghese e post-proletaria, precarizzata e pauperizzata delle nuove plebi policrome post-moderne, private financo del diritto di esistere. Ecco allora che la categoria di gentismo di nuovo conio deve essere letta congiuntamente con la categoria a cui già siamo avvezzi di populismo. Come il populismo esprime oggi l'odio palese che suddetta aristocrazia finanziaria prova per le masse neoplebeizzate dei dominati, analogamente gentismo è la nuova categoria con la quale l'elite finanziaria post-borghese, ostenta il proprio odio per la gente comune, accusata di essere xenofoba, populista e incurante del tema dei sacri diritti civili dell'individuo consumatore globalizzato. Ecco più che mai oggi è bene, anzi è fondamentale, e condiziosi in equa non per un pensiero critico, decostruire la neolingua, svelando gli occulti rapporti di forza che essa nasconde e di più legittima su scala planetaria. Grazie a tutti.